e buonasera buonasera a tutti ben trovati in questa villages late night pre age of guardians siamo agli sgocci ragazzi un paio di settimane ci ritroviamo tutti sulla piana con me stasera come sempre il grandissimo andy baldacci buonasera a tutti non vediamo l'ora di accogliervi siamo proprio febbricitanti pronti elettrici c'è gasamento nell'aria c'è gasamento c'è gasamento si 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 poi si percepisce già c'è un movimento abbiamo chiuso mentre noi facciamo la live ci sono due riunioni in contemporanea quindi insomma diciamo che vediamo che c'è movimento vediamo che c'è movimento e stasera come abbiamo annunciato proprio ieri abbiamo oggi abbiamo fatto uscire la guida evento quindi stasera danilo ci andrà sarà proprio importante ci andiamo a guardare la guida evento passo passo a commentare io so che poi chi non può stare in in diretta stasera poi tanto se la va a riguardare importantissimo perché chiacchiereremo proprio sui punti della guida evento che sono fondamentali sì 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 ragazzi se sapete di qualcuno che poi vuole rivedere la live in un secondo momento la trovate sia qui su twitch che sul canale battle for villages di youtube su twitch domani sul canale battle for villages di youtube domani o fra qualche giorno comunque le trovate quindi siccome parleremo un po' di alcune cose che sono leggermente diverse da come sono state negli anni passati a livello di dinamiche sia logistiche che di gestione di alcune situazioni specifiche è comodo che quante più persone possibile siano a conoscenza così che viviamo tutti un live più sereno se tutti siamo con le stesse regole e tutti sappiamo anche cosa aspettarci esattamente esattamente poco prima di andare in live mi sono gustato il video che ha messo cristiano sul gruppo di battle for villages fighissimo consigliamo a tutti di guardarlo consigliamo a tutti l'unico dettaglio exhaustion non è perfetta da dicitura perché sul regolamento ancora non è stato cambiato poi vi spiegheremo anche il motivo di questa scelta di aspettare a fare il regolamento nuovo per giugno 25 e però insomma tutto il resto mi fa mi ha fatto morire da ridere guardate un video sulle olimpiadi e sulle chiamate di battle for village spettacolare assolutamente poi fra l'altro ragazzi come probabilmente i più scaltri di voi avranno potuto notare e c'è un giveaway durante il corso di questa live quindi anche questa sera a un certo punto più o meno randomico della serata quindi rimanete con noi finché finché vogliamo fondamentalmente perché sapete che poi io la catena di di baldaccia a un certo punto si rompe e lui partirà con un'aneddotica lunga un sogno ma fino ad allora in qualunque momento potrebbe uscire questo simpatico biglietto per age of guardians 2025 che è il futuro futuristico qualcuno ci chiede se col giveaway si vince il baldacci avevamo provato a fare una campagna una cena col baldacci però poi ci siamo resti conto che mangio tanto è sporco potrebbe essere non proprio un premio forse una punizione però se volete allora allora andrea qua ci chiedono subito un aneddoto che aneddoto possiamo lanciare così di riscaldamento prima di entrare nel culo della conversazione di riscaldamento cose successe nel recente passato cose discoste in fiera che ne so qualcosa di divertente no in fiera ce n'ho un paio però non ti possono dire ah ok sono illegali siamo andati ultimamente questo weekend a San Marino Comics nella splendida città di San Marino sempre bella io non ci andavo da un sacco di anni e siamo andati a partecipare abbiamo fatto un piccolo villaggio fantasy la fiera molto molto bella è dentro una città spettacolare la fiera ci sta benissimo organizzata molto bene logisticamente molto molto gestita benissimo quindi l'anno scorso non sono andato per un discorso di tempi e di lavori a Vedralla quest'anno sono riuscito ad andare è stata bella e un paio di volte siamo stati diciamo colpiti da un paio di cosplayer che hanno usato oltre ad usabile proprio ah ho capito usato oltre ad usabile non si può dire non si può dire non si può dire non si può dire però è stato divertentissimo perché poi c'è stato un po' una caccia alla scoperta cioè nel senso ma veramente può essere così perché sembrava che veramente si era scordata dei pezzi a casa ecco perfetto a parte questo mi è capitato qualche tempo fa di trovarmi in una festa di compleanno di vecchi amici allora non so se hai visto nel frattempo la regia ha messo ha creato una faccita icona alle storie di Baldacci grazie la regia ci regala sempre dei momenti quindi questa foto è stata presa proprio dal sito dell'epic empire nel 2017 pensate e quindi c'è stata una serata di vecchi e nuovi racconti ed è stato bellissimo come ritrovando amici che poi sono da tanti anni che sono usciti dal giro erano increduli sia positivamente che negativamente di quello che è ora un po' l'ambiente quindi positivamente perché comunque vedono video foto bello racconti epici di giocate notturne di urna e cose varie negativamente perché poi a volte leggono dei commenti delle nuove leve e loro si ricordano quando la cosa più simile a un bagno era un amico tuo che te teneva il mantello davanti ecco partono quegli aneldo di quelli brutti di Baldacci ricordi del Vietnam la cosa più simile alla taverna era la salsiccia e il fighetto messo nei calzini da 12 ore che alle 3 di notte tiravi fuori con un aroma fantastico la volta del cazzino Danilo è stata epica perché andiamo a giocare in una prosseed in due montagne ma eravamo 25 persone gruppi antagonisti il fatto sta che a un certo punto dovevamo scappare facciamo roba presso e cosa facciamo vabbè lasciamola qua e poi ripassiamo qua a prenderla per la cena persa sta ancora lì la roba è ancora lì lo scrigno con le monete con la cena sta tutto ancora lì mai più trovato e tipo alle 3 di notte ci saremmo mangiati pure qualcosa di poco commestibile che correva in giro per il bosco avevamo una fame da nì e uno si ricorda che si era messo una salsiccia in un calzino ma perché si era messo una salsiccia in un calzino? non mi ricordo perché non c'aveva la borsa era un'epoca in cui l'abbigliamento era anche molto più di fortuna si immagina e ce la siamo smezzata perché alle 3 te saresti mangiato pure non so che tutto anche la terra guarda la fame atroce proprio vabbè questo è nel frattempo vedo che la chat si sta ravvivando abbiamo già dei numeri carini forse possiamo cominciare a toccare a guardare possiamo cominciare allora io stasera io stasera approccierei in maniera proprio analitica visto che se no mi perdo totalmente e non vorrei perdermi nulla della guida evento mi apro proprio la guida evento e man mano ne chiacchieriamo insieme che dici Danilo? la cosa migliore secondo me io penso che senza dover scendere per forza con i potenti mezzi della nostra regia ecco la grande regia ha postato il link della guida evento così se qualcuno dei presenti ancora non l'aveva ad occhiata ad occhiata può subito scaricarla ragazzi è fondamentale la guida evento vi direi anche ovviamente il regolamento ma la guida evento sono le cose pratiche proprio di questo evento così non ci sono scuse ottimo allora incominciamo a guardarci la guida evento la cosa che c'è subito una cosa importante sono le mappe le mappe dei parcheggi e delle strade che garantiamo a tutti quelli che oggi si sono un po' lamentati sono state corrette le mappe adesso che scaricate adesso sono tutte giuste con i simboli non c'è più argantis che dopo tantissimi anni di onorato servizio e di epici accadimenti è andato in a riposo per un po' poi chissà il futuro è tutto succede a volte ritornano a volte ritornano a volte ritornano e quindi ha lasciato il il nuovo piccolo gate all'Inxia che per la prima volta avrà un delle mura da difendere da difendere da difendere a proteggerla e quindi torno sulle guide a vento perché poi mi perdo un po' con la aspetta che andrei capire no no non riesco a vedere tutto grazie mi è arrivato un po' di coca cola anche dalla dalla logistica casalinga e allora le mappe e la disposizione dei campi la vedete la cosa importantissima sono due le strade prima del Temin e durante il Temin e i parcheggi e i parcheggi ragazzi la cosa parcheggi è delicatissima e anche le strade mi raccomando leggete tutti i dettagli della guida e vento perché abbiamo aggiunto delle regole che io ora vi andrò a dire però non ve le vate a leggere perché sembra sennò l'insegnante è quella che mi rompeva le palle a scuola che leggeva il libro ve le dico voi leggete tutto la cosa fondamentale che è anche per logica vediamo la mappa 2 che ci dice il percorso che voi potete fare prima del Temin è evidenziato in rosso e che vi dice che potete arrivare ai campi anche passando soprattutto chi deve andare a Valerian Nepturia passando in mezzo alla piana questo ovviamente non vuol dire che dovete fare i giretti per la piana per andare a prendere un caffè in città non serve caffè in città si può fare pure a piedi quindi questo è facile i parcheggi i parcheggi sono P1 P2 e poi c'è il parcheggio vicino alla città cosa fondamentale qualsiasi macchina che deve muoverti durante l'evento si deve parcheggiare al P1 il P2 è solo per la lunga sosta questo perché come ho già ripetuto l'altra volta ma poi abbiamo avuto altri feedback il continuo passare di macchine soprattutto dietro i campi sulla collina fa sì che le macchine ovviamente non passano a passo d'uomo passano a velocità sostenute alzando la polvere riempendo di polvere le tende dove la gente dorme e quindi dato che abbiamo notato i giocatori ci hanno fatto notare che siamo stati poco attenti e poco duri su questa cosa questa volta saremo attentissimi quindi P1 per chi deve andare a dormire a B&B a fare tutto ebbene sì la sera dovrete camminare per andare alla macchina P2 esclusivamente per chi parcheggia la macchina quando arriva e la riprende quando va via non c'è nessun altro posto dove parcheggiare quindi anche se arriva il papa che si metta alla porta e vi dice che potete parcheggiare a bordo bosco vi sta dicendo una cazzata gli unici posti dove parcheggiare sono P1 e P2 ok mi sembra chiaro no Dani? ma più chiaro di così nel senso ragazzi è chiarissimo si parcheggia solo al P1 e al P2 fine della storia vediamo la mappa 3 che ci dice che durante l'evento ovviamente perché arriva magari il venerdì che arriva il giovedì che arriva il sabbano mattina può capitare l'unica strada percorribile è quella gialla che passa dietro i campi non in mezzo questo Danilo secondo me dovrebbe essere una cosa ovvia e scontata non lo è stato lo sappiamo l'abbiamo visto in paio di macchine che passavano in mezzo proprio si mentre la strada blu è quella riservata ai visitatori si e non sto qui non spendo altre parole già le ho spese l'altra volta nel dire che ovviamente saremo attenti al controllo di quello che succede quindi macchine trovate parcheggiate male i possessori della macchina saranno istantaneamente sanzionati ragazzi vi ricordiamo anche come è scritto sul sulla guida evento che bisogna lasciare il nome outgame proprio del gruppo della casata in game sul cruscotto della macchina sempre questo purtroppo è un uso che in pochissimi fanno ma i potenti mezzi ci permettono di risalire al proprietario della macchina che potrebbe essere il papà di un giocatore ma tanto ragazzi gira la troviamo ragazzi quale sarebbe lo scopo di lasciare la macchina male senza il proprio nome è proprio distruttivo è contrario a tutte le logiche che insomma noi sposiamo e che cerchiamo di portare avanti con questo mettete il nome così dell'eventualità che per sbaglio abbiate messo male la macchina cosa che non dovrebbe mai succedere comunque perché si parcheggiano solo al P1 e al P2 e il P2 solo all'inizio e metterò un cartello che vi dirà da dove inizia il P2 perché è bello in fondo sembrerebbe essere bello in fondo ho anche la battuta giugno ma non c'è niente che mi dice dove inizia e ovviamente la sua macchina era a 10 metri dalle tende però metteremo anche un cartello così è chiaro che il P2 inizia qui da qui in poi e quindi la strada è solo dietro ricordatevi che se dovete andare a fare spesa o cose varie anche lì lo potete fare solo di giorno e sempre parcheggiando al P1 cioè potete andare dietro al campo scaricare ovviamente la roba e riparcheggiare a P1 solo di giorno perché vedere i fari di notte che si muovono e illuminano la piana fa veramente schifo abbiamo una domanda sulla questione parcheggi che ci chiede credo il favore di chi si sposta anche per motivi anche di emergenza di abbassare la velocità passando dietro perché se no riempita di polvere le povere tende dei vostri amici oltretutto vai domanda la domanda è se arrivo giovedì a ora di pranzo posso parcheggiare temporaneamente al P3 per scaricare le cose nella tenda off game e poi rimetto la macchina al P1 per parcheggiarla questa è la domanda e di che campo sei? Gauranger dici di che campo sei io credo io credo che lui parli della tenda fuorigioco nella zona campeggio lì accanto al P3 allora oltretutto accanto al P3 quindi e sarà anche qui metteremo un cartello e anche al P3 c'è un c'è un parcheggio che non è ovviamente quello iniziale riservato ai visitatori e allo staff metteremo più cartelli quest'anno quindi Valerian ok certo tu puoi parcheggiare lì o se ti devi muovere costantemente vai al P1 il senso qual è? che chiunque deve muoversi durante la notte andare a B&B andare per il lavoro fuori deve andare a P1 se tu invece parcheggi la macchina e non la muovi più al parcheggio 3 ci sarà posto per per le macchine per esempio vicino a P3 c'era un parcheggio violento a bordo strada questo che significa che se dovesse passare un furgone o due furgoni che poi fanno qualche 7-8 fiancate poi la colpa di chi è? perché la mettono a bordo strada? perché è più vicino alla tenda loro ragazzi parliamo di veramente 30 metri quindi aiutateci a semplificare le cose queste che sono semplici in realtà quindi abbiamo detto i parcheggi abbiamo detto le strade Danilo? sì gli orari come sempre ragazzi dall'ora piena è 40 sono in entrata ci sono sono le persone stesse c'è sempre una persona lì quindi in realtà gli orari li abbiamo messi perché per sicurezza dovesse succedere qualcosa che una persona manca per qualche tempo ma come avete visto ormai c'è sempre una persona lì giù e c'è sempre un presidio fisso al cancello di giorno e di notte che è la segreteria quindi se dovete prendere il braccialetto o cose varie è lì che dovete andare salvo casi fortuiti in cui passo in giro e faccio un po' di braccialetti però se passate là fatelo soprattutto chi arriva martedì assolutamente sulla strada e parcheggio non c'è molto altro abbiamo detto tutto abbiamo detto tutto se ci sono domande sono felicissimo al momento non ne vedo perfetto ho parlato anche di segreteria e del fatto di come funziona questione fuochi penso che sia la prossima questione perfetto andiamo avanti io poi lo sto seguendo ragazzi oggi sono molto molto attento perché la guida vento è importante ci sono varie nuove cose quindi seguo la guida vento fuochi prima c'era nel momento che avete un fuoco sia per cucinare che per farvi caldo qualsiasi cosa che sia più di una candela la necessità di avere o estintore o pala abbiamo sommato le due cose estintore e pala do anche qualche consiglio pratico è sempre meglio fare una piccola buchetta con la pala che vi siete portati perché perché la cosa migliore per spingere un fuoco magari un po' di erba che sta prendendo un olio che è andato a terra che state cucinando è usare proprio il mucchetto di terra che avete tolto della buca che avete fatto la terra è la miglior cosa per spingere il fuoco ovvio l'estintore ha il suo perché ma in tanti casi la terra risolve tutti i problemi quindi obbligatorio estintore e pala fate vedere il punto fuoco o a uno di staff o a un png fate in modo che qualcuno di noi sappia cosa state facendo e veda anche come l'avete fatto ok nel frattempo ci sono alcune domande che si rifanno all'argomento di prima ragazzi per sapere dove parcheggiare i camper ci sono le immaginette sulla mappa che fanno vedere esattamente le zone in cui si mettono i camper ci sono delle zone dietro le casate e vicino al più uno l'unica cosa è che si può mettere dietro le casate perché ci dormite quindi il camper la domanda top in questi casi è ma io dormo in macchina e e sono cazzi tuoi la macchina non è un camper quindi la macchina vai a dormire al p1 o al p3 se vieni con un camper che è sempre quattro ruote ma è una cosa diversa lo puoi mettere a bordo della recensione dietro al cam o al p3 ovviamente non so se l'abbiamo scritto mi sta venendo in mente ora è ovvio che non potete scaricare i liquami dove vi pare i liquami li potete scaricare dentro i sebbac io qualche persona educata l'ho vista e però lo ripeto i liquami si scaricano dentro i sebbac mi sembra anche abbastanza logico ragazzi eh sì ovviamente dico un'altra cosa logica ma è successa quindi il fatto di non parcheggiare i chiite campi esclude anche la problematica delle macchine parcheggiate a fianco ai bagni a fianco ai sebbac a fianco alle cisterne lì non ci deve sta manco una macchina quindi il problema è tolto mi aspetto che un camper non si metta a fianco a un bagno a fianco a una a alle cisterne io vado avanti con la guidamento andiamo avanti ora via fermami in qualsiasi momento se ci sono domande sì sì al momento niente di specifico perfetto ah no ecco questa è una domanda specifica sul fuoco ci vedono la dimensione dell'estintore da quanti chili deve essere l'estintore allora non stiamo dando mi sono bloccato adesso ti sei sbloccato ok non abbiamo dato una specifica perché anche l'estintore quello piccolo da un chilo può bastare soprattutto se unito alla pala e alla terra quindi non servono cose mastodontiche ragazzi ovviamente serve un po' di si diceva sale in zucca non vanno lasciati i fuochi accesi se voi non ci siete vanno sempre controllati state attenti all'olio cioè l'olio brucia quindi se voi cucinate poi sparpagliate buttate l'olio non buttate l'acqua per spegnere il fuoco dell'olio è perché scoppia fa la fiammata ok fa la fiammata quindi bisogna togliere l'ossigeno ragazzi la cosa importante è togliere l'ossigeno non metterlo e l'acqua ha ossigeno sì in linea di massima come giustamente la logica è che sapete che tipo di fuochi fate sapete che tipo di sostanze infiammabili mettete vicino ai fuochi regolatevi di conseguenza se dovete fare una padellata con due litri d'olio è chiaro che vi servirà tanta terra per spegnerlo se dovesse prendere fuoco non lo fate prendere fuoco in linea di massima è sempre la cosa migliore e non fate due litri d'olio in una padella però ognuno di voi sa che tipo di fuoco deve portare che tipo di accensioni prevede e quindi si regola di conseguenza però è chiaro che se dovete fare un fallò di 20 metri non si possono fare però non vi potete portare l'estintore da un chilo non ha senso fate qualcosa commisurata a quello che volete fare dunque scusami perché volevo giusto mantenerci finché eravamo in tema prendere anche le domande sul tema stavamo andando avanti se non ricordo male sì 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 anche i fotografi parcheggiano al P2 no al P3 fotografi fotografi al P3 allora andiamo avanti con l'equitamento di aree del gioco e troverete anche dei dettagli sulla la scenografia delle tende sì diciamo che in questo c'è stato un messaggio che sicuramente tanti hanno letto di un'amica che ringrazio Michela che ci faceva notare come era un po' che mancava come un po' alcune cose si hanno lasciato un po' andare e questo me ne dispiace perché è vero la realtà è come ho detto dopo il covid siamo stati forse un po' troppo morbidi su quello che erano delle regole scritte sul regolamento e mai cambiate da sempre è ovvio che nel momento che non siamo stati duri nel farle applicare man mano le cose sono un po' trascese di che cosa sto parlando dei mega gazeboni bianchi con tetto bianco pareti bianche con le finestralde trasparenti questa è una cosa che dovrà sparire non totalmente perché io capisco che il gazebo con un tetto impermeabile per gruppi grossi è fondamentale e questo è sacrosanto ma i laterali si devono fare di stoffa possibilmente colorata ancora meglio se con i colori del gruppo qualche gruppo addirittura ci ha fatto anche il simbolo del proprio gruppo una cosa difficilissima uno stencil e una bomboletta vi dico anche che alcuni gruppi hanno coperto anche il tetto esterno e interno quello non viene richiesto ma i laterali assolutamente sì in questo evento daremo un minimo di tolleranza cosa significa che lo montate se non avete i laterali giusti ma lo montate alla fine del campo non a fianco all'achillazone dove appena entri nel campo la prima cosa che vedi è questo casermone bianco trasparente di plastica monti alla fine ma già vi dico che a giugno se avete il casermone di plastica non starete in gioco verrà spostato quindi queste sono idee ma anche per attende particolarmente moderne militari moderne in quelle che spesso sono già totalmente di stoffa basta proprio poco perché basta prendere un po' di stoffa tagliata greca e metterla tutto intorno che già si spezza il monocolore militare ed è più decente meglio più decente ci chiedono se l'importante è quindi che non abbia i laterali in plastica almeno per settembre sì assolutamente sì i laterali stoffa colorata qualcuno mi ha detto ma stoffa bianca ragazzi perché io dico colorata perché purtroppo a volte poi uno prende la stoffa bianca plastificata e torniamo alla plastica se invece è colorata aiuta aiuta e vado avanti perché andiamo avanti abbiamo superato la questione di orari di gioco no continuiamo col progetto giochiamoci per i bambini vi dico vi dico dei numeri perché ho fatto una riunione proprio la settimana scorsa con psicologo ed educatori e a giugno il gruppo di piccoli era di 30 bambini è arrivato a 30 bambini bellissimo loro sono fomentatissimi sono contentissimi ovviamente gli orari che vedete sono leggermente ridotti da quelli di giugno perché si sono accorti che un orario troppo lungo è difficile mantenere l'attenzione in quanto è vero che giocano ma i giochi che fanno in quel momento sono dei giochi comunque che hanno dei momenti di riflessione dei circoli dove parlano poi delle emozioni che hanno messo in campo nella nella battaglia prima o nel dungeon insomma in quello che facevano quindi hanno ridotto leggermente gli orari e un'altra regola fondamentale è che i bambini dai 7 anni in giù ci deve essere obbligatoriamente la presenza di un genitore a vista il genitore ci deve stare questo perché ricordiamo che non è né un baby parking né una una colonia è un progetto finora totalmente gratuito che però dobbiamo mettere qualche regola perché a volte alcuni alcuni piccoli sono di non facile gestione e quindi un genitore lì potrebbe aiutare in quanto magari poi se sono tanti non è facile prendersi cura di tutti nella maniera adeguata quindi dai 7 anni in giù si deve essere un genitore a vista poi mi hanno anche detto che ci sono stati dei bravissimi genitori che non erano solo a vista anzi hanno interagito li hanno aiutati hanno li hanno fatti gli hanno fatto conoscere dettagli del gioco in più questo è bellissimo Danilo sai che a me piace particolarmente questa parte dei piccoli sì sì lo so e spero di riuscire a breve magari entro l'anno ma ancora non ho eh di fare un primo live dedicato a loro un sabato e domenica dedicato a loro ancora stiamo capendo modalità post e cose varie però sarebbe bello facciamo crescere le nuove generazioni che noi non ringiovaniamo gli diamo anche un dei bei momenti di gioco libero che io ce l'avevo nel bosco dietro casa dove mi menavo quella vicino mio con i bastoni di legno loro ce l'hanno davanti alla playstation non è uguale qualcuno è una versione diversa di intrattenimento dei bambini gli fa bene comunque socializzare gli fa bene avere delle sfide che siano mentali e anche fisiche è sempre un'ottimo un'ottima palestra secondo me il gioco di ruolo per tante cose sia mentali che fisiche assolutamente assolutamente ricordiamo io questo lo voglio ricordare perché è importante al mio personal avviso che ci aspettiamo da tutti i genitori che ci sia una piena responsabilità sulle azioni dei propri figli cioè nel senso è bellissimo che siate lì con i vostri figli li facciate vivere questa esperienza ed è anche bello che la viviate insieme ai vostri figli questa esperienza e quindi è anche giusto che voi siate pienamente responsabili di quello che fanno questi ragazzini hanno bisogno di una guida e ci aspettiamo appunto che non facci non compiano azioni che sono distruttive del gioco altrui perché altrimenti la responsabilità ovviamente non è dei bambini ma è dei genitori spiegategli le regole e dico una frase a buon intenditor poche parole e non li usate per fare qualcosa che voi sapete che non si può fare perché come ha appena detto Danilo poi arriva tutto a voi comunque oltre il progetto piccoli abbiamo una domanda sui bambini ci chiedono genitori a vista per bimbi under 7 durante le attività per i piccoli dopo l'orario di attività maggiore ragione immagino Danilo sono confuso non capisco la domanda vogliono sapere se i bambini avranno una supervisione da parte dei genitori a minori di 7 anni tutto il tempo o se solo durante o se è richiesto solo durante le attività dei bambini che giocano con gli educatori cioè la domanda è in quelle due ore devo guardare mio figlio ma dopo le due ore mio figlio lo posso anche perdere di vista? credo che non sia da parte di un genitore la domanda è un giocatore che ci chiede siccome abbiamo visto girovagare da soli i bambini molto molto piccoli è previsto che i genitori stiano con i bambini molto molto piccoli? come abbiamo detto assolutamente sì c'è stato qualche accadimento a giugno abbiamo cercato di mettere rimedio i genitori subito hanno capito e per chi in alcuni casi a un genitore fa piacere vedere il figlio che si muove libero e non è usuale nella vita di tutti i giorni avere questo tipo di libertà però ovviamente abbiamo ripetuto a tutti quanti che devono essere presenti e a vista per evitare qualsiasi problematica qualsiasi accadimento anche per evitare che il figlio si trovi nel posto sbagliato al momento sbagliato ci fanno un'altra domanda anche questa la risposta è abbastanza lineare la scorsa chiamata durante una sedia c'era un bambino piccolo messo davanti una ballista che non permetteva a nessuno di attaccarla poteva stare lì il bambino la risposta credo sia abbastanza lineare allora prima di rispondere a questa domanda specifica faccio un altro faccio un altro discorso si poteva minare il genitore no mai non si possono picchiare non si possono non si possono aggredire le persone a battle for villages è un crimine con la spada di gomma puoi fare tutto quello che vuoi con la spada di gomma sempre lui intendiamo con la spada di gomma ovviamente ci auguriamo allora faccio un'altra parentesi però in alcuni casi ho visto giocatori adulti magari in una battaglia o in un in un in un momento di battaglia essere colpiti da dei under 14 e non calcolarsi nulla abbiamo messo una regola per questo la regola è che gli under 14 in generale durante l'evento non fanno danni agli adulti questa è una regola messa perché c'è stato un momento di una piccola baby gang che ormai sono diventati grandi e di bambini e di bambini che ovviamente andavano menavano chiunque incontravano derubavano tutto a tutti sbagliato quindi abbiamo spiegato ai piccoli che non possono più farlo però nel caso nel caso ci sono bambini in una battaglia dovrebbe voler dire che il genitore è lì a fianco a loro e li sta seguendo quindi se il bambino è nella battaglia e magari è anche contato nel numero della battaglia in quel momento l'arma del bambino fa un danno come tutti e ora vi dico la frase che spesso alcuni mi dicono ma io ho paura di menargli e a volte mi è capitato anche con uno dei miei figli e io l'ho preso l'ho messa a fianco a una ragazza di 22 anni erano uguali quindi il problema di aver paura di menare un bambino vuol dire che tu sei consapevole che non sai controllare la tua forza perché in teoria con tutti uno dovrebbe essere capace di controllare la forza sia con un bambino che con una ragazza che con un uomo che con uno in armatura perché il principio che quello che ha in armatura almeno allora gli posso tirare a ciavatta sull'armatura è sbagliato lo stesso assolutamente ragazzi e si sentono quelle ma oltre che si sentono il problema che io dico sempre per esempio sugli scudi vedo delle botte assurde sugli scudi tirate proprio come se non volessero tagliare a metà e quello che ripeto sempre ma siete consapevoli che davanti a voi ci sono persone che si muovono quindi quindi quando tu tiri quella ciavattata sullo scudo ma se la ragazza a fianco mette il braccio tu gliela rompi quindi il principio è dosare la forza sempre con chiunque con il bambino con l'adulto con la ragazza con quello con l'armatura perché ci sono i posti in cui potete andarlo a fare però sono un altro posto non è Battle for Villages è un altro gioco aggiungo che noi sicuramente ci piace un combattimento molto fomentato siamo sicuramente la realtà forse europea da quello che mi raccontano amici che hanno visto eventi che non ho visto io tipo in Francia sicuramente siamo una delle realtà europee più dure come combattimento questo non vuol dire che si deve spingere il cervello vedo che c'è una c'è una serie di domande barra commenti penso che tu li stia leggendo parlano un po' di questioni di bambini davanti a balliste allora il bambino davanti alla ballista non ci deve stare ci dovrebbe stare il genitore che gli dice levati e oltretutto il bambino davanti alla ballista dovrebbe essere sicuro come un adulto basso davanti alla ballista perché la ballista se è fatta adeguatamente non dovrebbe fare alcun danno né a un bambino né a un adulto e le armi d'assedio me le hanno tirate addosso tutte infatti la lamentera non è sul quanto il bambino si possa fare male ma sul fatto che il bambino impedisse di raggiungere la ballista per romperla e ripeto non ero non ho visto questa scena in un'ipotesi in cui questa cosa accada non lo sappiamo se è successo il bambino lo puoi colpire perché il bambino sta nel campo ci sono i bambini in tutti i campi quindi ignorarlo secondo me non serve bloccarsi manco gli emeni e vai a prendere la ballista i bambini hanno due punti quindi vai avanti a prendere la ballista se il bambino ha un comportamento scorretto ok magari dite oh di chi è questo lo portasse via perché come adulti hanno comportamenti a volte non correttissimi ovvio può capitare anche con bambini però la fortuna è che in quel caso ci dovrebbe essere un genitore a vista sì diciamo normalmente se un minore di 14 anni è in battaglia c'è un genitore con lui poi è ovvio che il tredicenne altro un metro e settantacinque magari mancano noti che c'ha tredici anni perché ok quindi però si diceva in linea di massima abbiamo capito più a quale categoria di minori diciamo che ci sono abbiamo dato le giuste linee guida poi cercheremo di attuarle con l'aiuto dei genitori e dei bambini ovviamente spiegando anche a loro cosa devono fare io basterei avanti visitatori apriremo il forum per i visitatori anche questa volta sono stato molto contento Danilo che l'ultima volta appena uscito il forum mi sono arrivate dei messaggi molto allarmati come se avessimo organizzato dei pullman con visitatori bandierine e cose varie mentre sono stato contento che alcune persone a fine evento mi hanno detto vanno Andrea scusa avevi ragione la gestione dei visitatori non mi ha dato fastidio alla fine erano pochi e quasi invisibili abbiamo continuato a ricordare i visitatori che non possono fare foto alle persone possono fare solo foto di scenari di massa e cose varie così che eliminiamo anche questo problema privacy e comunque è stato qualcosa che secondo me ha portato i giusti risultati nel senso che è stato un modo per passare una giornata insieme a parte della famiglia che sono anni che vi sente parlare di queste cose e non non le poteva mai vedere o per far venire a parlare degli amici per esempio alcuni aggiungono il visitatore e ora vengono a giocare perché hanno toccato con mano quello che magari a volte gli veniva raccontato e niente quindi è questo c'è una domanda che mi risulta strano è possibile che un'arma un'abballista faccia due punti di danno è possibile sì basta che leggi il regolamento alle armi d'assedio e vedi che fa due danni true può dipendere dal tipo di arma dal tipo di arma d'assedio fa anche mortal quindi le armi d'assedio fanno anche mortal quindi è assolutamente possibile che un abballista faccia due punti anzi di base fa due punti di danno la abballista e così una domanda del genere è facile proprio avere la risposta per aver letto il regolamento mi sei stata grida verbalmente perché sei stata colpita una volta e sei scappata se avevi solo due punti vita sì aveva ragione lui non sei caduta e ha fatto bene ma ha fatto non notare però insomma a volte che darmi da segno è difficile perché si tirano c'è casino quindi può capitare non non penso che sia un non sia più grave di tante altre cose che abbiamo visto e che ora parleremo anche qui vado veloce sulla parte alcolici dopo gli accadimenti di qualche evento fa state mantenendo una una buona linea vi prego di continuare a mantenerla quindi datemi una forte regolata perché è giusto divertirsi chiacchierare bere con gli amici ma non non esagerare non soprattutto andare in giro quando si sa che si è bevuti troppo quando avete bevuto troppo andatevi a sdraiare se non bevete troppo ancora meglio molto meglio molto meglio ancora meglio c'era un dettaglio su una cosa che non so se è saltato che ha a che vedere con quale aspetto del gioco Andrea vabbè intanto vado avanti andiamo avanti schede personaggio allora ovviamente molti si sono svegliati in questi giorni per andare a guardare la scheda e vedere che gli mancava appunto di giugno ragazzi il nostro portale schede l'abbiamo la prima volta l'abbiamo usato a giugno c'è stato poi un grosso problema in quanto tante persone hanno avuto grossi ritardi a riportare la scheda sul portale grossissimi ritardi grossissimi abbiamo fatto comunicazione su comunicazione e in più stiamo affinando il tutto quindi è capitato che alcune persone non avevano il punto di giugno c'è la mail di skill mandate una mail a skill dite come avete fatto come avete preso la quota di giugno l'ho presa a lucca parco il bonifico e cose varie e vi viene messo il punto specifico una cosa ragazzi a volte vi chiediamo di dare prova a voi e qualcuno mi dice ma voi non ci avete tutto certo ragazzi noi ci abbiamo tutto però capite che siete tanti e ci fate costanti richieste di qualsiasi genere di tutto a volte devo mandare quattro mail a una persona per sapere chi è il suo new player perché mi ha scritto un new player ma non mi ha messo il nome quindi già siamo invasi da continui controlli e mail per gestire tutta la vostra pazza fantasia se in alcuni casi ci date una mano è meglio per esempio ecco ho una lunga lista di persone che hanno pagato e non hanno fatto la registrazione ricordatevi che se arrivate alla porta che avete pagato ma non avete fatto la registrazione abbiamo rinserito 20 euro di penale ora detto questo da domani Danilo mi arriveranno 500 messaggi con mi controlli se sono a posto mi controlli se sono a posto ovviamente ragazzi ve lo dico non risponderò a nessuno quello che dovete fare se non siete sicuri di aver fatto la registrazione rifatela non c'è problema se domani mi arrivano su form altre 500 600 forma non è un problema per me cioè se è doppia non è un problema perché tanto io le vado a cancellare quelle doppie ma non mi incominciate a tartassare su qualsiasi canale facebook cellulare messaggi su tutto mancano solo i piccioni mi controlli mi controlli perché siete troppi abbiamo tantissime cose da fare perché l'evento si avvicina quindi avete un dubbio se non l'avete fatta rifatela così io quando prima dell'evento mi vado a smarcare la lista della blacklist di quelli che non l'avano fatta vi ritrovo ed è tutto a posto allora ho letto così vagamente la parola taniche ed è un altro un altro argomento fondamentale che c'è su questa guida evento sto vedendo ok allora era quello che mi mancava prima non so dove l'ho saltato allora approvvigionamento acqua come abbiamo già detto a giugno abbiamo avuto enormi problemi ragazzi enormi problemi in maniera anomala perché a giugno abbiamo aumentato le nostre riserve d'acqua abbiamo iniziato l'evento con tutto possibile pieno e comunque il venerdì ci siamo trovati affogati bloccati eccoci ho bloccato l'acqua ma i potenti mezzi della nostra regia ci hanno rimesso subito e questo perché purtroppo c'è un uso dell'acqua veramente imbarazzante proprio l'atto giorno a quella festa di compleanno un giocatore mi raccontava che ha avuto una discussione lui con un altro giocatore in quanto un paio di volte gli aveva detto gentilmente guarda chiudi l'acqua della cistella mentre te la videnti perché mi scocerebbe la chiudi alla seconda volta questo giocatore gli ha detto e mica la riempirei l'acqua tanto fortunatamente questa persona non mi ha detto chi era l'altro non se lo ricordava non voglio indagare ma credetemi che avrei pagato un sacco per sapere chi aveva dato questa risposta lo immagino abbiamo notato che anche l'uso delle taniche per lavare piatti pentole e cose varie ci ha creato innumeriboli problemi noi da sempre abbiamo avuto la politica di lasciare libera la parte potete cucinare potete fare mega catapolate di 30 persone braceri di un metro quadrato non c'è problema ma non è possibile che questo crei problemi a tutti gli altri a noi e a tutti gli altri quindi da questo evento proveremo l'attendativa di dire che le taniche per cucine e cose varie non possano essere usate che cosa vuol dire che le cisterne saranno posizionate in maniera da rendere estremamente difficoltoso riempire le taniche l'altro giorno ho avuto una telefonata con una con un'amica che inizialmente mi aveva fatto un po' agitare perché mi aveva detto no ci state levando l'acqua no nessuno ha mai detto che vi leviamo l'acqua anzi stiamo cercando di fare qualcosa per non farvela mancare mai perché penso che sia importantissimo che abbiate sempre l'acqua per infrescarvi per farvi una doccia per lavarvi la faccia le mani e sia molto per tirare lo sciacquone del bagno sia molto meno importante l'acqua per lavare le stoviglie del gruppo a fianco a voi che si è fatto la cena per 30 persone quindi se avete grosse cucine di gruppo vi consiglio di organizzarvi debitamente aggiungo che la domenica il martedì e il mercoledì fino alle tre di pomeriggio sarà possibile riempire le tanniche in città quindi vi servono tre tanniche per lavare i piatti venite in città le riempite con la macchina ve le portate al campo questo perché ve lo spiego perché voglio farvi capire anche se no sembriamo a volte dei pazzi furiosi perché il problema è non prima dell'evento è durante l'evento quando l'acqua serve per mille cose se aggiungiamo anche tutte le tanniche per le cucine non ce la facciamo Dani sono stato chiaro? penso che più chiaro di così non fosse non fosse possibile ci chiedo ma se sarà possibile riempire le docce solari sempre la docce solare fosse sempre riempita sta lì c'è rubinetto metti quella e riempi la doccia solare la tannica alta così non ci entra sarà proprio scomodo 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 e oppure noi tutto questo che stiamo facendo appoglio per garantire alla massa perché la realtà che purtroppo la proporzione fra i grossi gruppi e la massa è alta c'è tanta più gente che usa l'acqua solo per la doccia e cose varie però purtroppo abbiamo avuto difficoltà ovvio che ci aiutate anche non lasciando i rubinetti nei bagni aperti eh ad esempio nei nei due bagni messi dietro ai campi sulla collina dietro a Brandis Passago e la Conte e chi c'era è ovvio che se non lasciate il rubinetto aperto perché il rubinetto aperto svuota le tanniche in pochissimo tempo e noi quando ce ne accorgiamo la tannica è già vuota quindi solo io personalmente ho trovato anche nel bagno degli uomini accanto alla cittadella il rubinetto lasciato aperto mi ha fatto molto innervosire quindi cerchiamo in questo momento di provare a darci una mano noi stiamo aumentando ancora di più il numero di cisterne per prepararci ancora di più ma non possiamo fare nulla se poi ci si lava i denti per tre minuti con il rubinetto aperto si lascia il rubinetto nel bagno aperto si riempiano 20 tanniche da 20 litri per farsela non ce la facciamo io andrei avanti ok anche questo l'abbiamo fatto detto questo vi dico vi preannuncio così preannuncio anche alla regia che fra 15 minuti facciamo partire il giveaway che dici? perfetto perfetto assolutamente sì allora sì quindi dove siamo arrivati alle schede o andiamo avanti c'è una cosa che secondo me sulle schede è importante comunicare a tutti che le abilità base ve le potete prendere sul sito direttamente prima dell'inizio del live perché poi dovete stampare la scheda capito? la scheda aggiornata con l'abilità che avete preso quindi mi raccomando pensateci bene se avete punti da spendere spendeteli ora e vi stampate la scheda bella aggiornata fatevi più copie della scheda come consigliamo sempre perché se una ti finisce nella zuppa una ti disintegra perché non lo so il vento era troppo forte quel giorno o per qualunque motivo ne avete un'altra in tenda e potete tirare fuori e avere sempre con voi perché è un obbligo avere con sé la propria scheda sempre poi una cosa nuova qui c'è tutto sul regolamento poi il format di gioco specifico sull'evento ma abbiamo aggiunto delle pagine finali le pagine finali luogotenenti questo è qualcosa che non voglio teviarvi più rifaremo il il full crum come c'è stato a giugno perché abbiamo visto che ha avuto un bel un bel riscontro è piaciuto è stato giocato quindi lo riproponiamo e occhio agli orti leggete bene quello che c'è scritto perché in questo evento siamo stati buoni con tutti però a volte ci sono state del degli orti che erano veramente un celtino di frutta secondo me è anche un'altra cosa importante riguardo agli orti oltre ovviamente a dover fare degli orti che siano orti e non siano un vasetto con una pianta grassa e un pezzo di legno perché non è un orto e anche che dovete assicurarvi che il vostro orto nel personale sia inserito dal maestro dal maestro apotecario nella mappa degli orti della casata che va consegnata la mattina del secondo giorno di gioco quindi del 12 settembre quindi la finestra è quella per avere gli orti convalidati perché passerà lo staff in quelle ore a fare la convalidata degli orti quindi dovete avere la mappa dovete avere già consegnato il vostro orto assicuratevi che il maestro apotecario abbia fatto la mappa altrimenti l'orto non produce e non sappiamo che c'è banalmente ricordatela questa cosa importante un altro sto leggendo perché ovviamente ridate un'occhiata la chiamata di saustion è diversa del regolamento la regola del terzo trucco ma questo già l'abbiamo fatto un'altra cosa in cui negli ultimi eventi siamo stati un po' leggeri io un attimo però visto che questa la stiamo registrando poi magari faremo un recap di come funziona la chiamata exhaustion che non è ancora sul manuale di gioco ma è sulla guida evento secondo me questo può essere utile a tutti coloro che magari ci vedono anche in separata sede non dal vivo adesso che dice Andrea certo allora il bersaglio non può utilizzare un braccio dalle spalle in giù che dovrà essere tenuto lungo il fianco e cose vai quindi cosa vuol dire che a differenza di prima dove exhaustion buttava giù entrambe le braccia ora in questo momento la chiamata butta giù solo un braccio ok questo è un forte cambiamento in quanto avevamo visto che come era prima era eccessivamente forte forte è il braccio armato facciamo degli esempi specifici così non si può sbagliare se utilizzate un arco non lo potete utilizzare se utilizzate un'arma a due mani non la potete utilizzare se utilizzate spada e scudo buttate giù la spada la spada quindi se siete mancini se avete due armi faranno la domanda se avete due armi quella che preferite perché avete ambidestria buttate giù quella che volete ci chiedono il contatore dei maghi che è una mano sola no non è quello rimane così non potete utilizzarlo nel tempo della durata dell'exhaustion diciamo che tu hai due mani uno indichi in una hai l'arma dell'altra hai il contatore in una indichi ok una la levi è ovvio che c'hai una mano sola non puoi indicare non puoi fare nulla ma il contatore ti rimane non te lo leva con ambidestria si una la puoi usare certo con due armi non avrebbe senso mettere giù quella dominante nel regolamento specifica che in caso di due armi impugnate si abbassa solo una delle due a scelta del bersaglio quindi non c'è una specifica sul regolamento che dice quale mano dovete abbassare è chiarissimo perché non possiamo fare controllo se siete mancini adesso quindi metti giù quella che te pare esattamente quindi chiaro come funziona battle exhaustion anzi è la chiamata exhaustion quindi sia che sia battle sia che non sia quello che sia tutto quello che è altra cosa importante che c'è sempre stata schietta sul regolamento ma che diciamo c'è stato un momento di morbidezza nel controllo sono i glifi legati agli oggetti quindi è lunga la parte non voglio leggervela ma una cosa importante è che leggete tutto e che vi ricordate vi organizzate per avere il glifo attaccato all'oggetto non deve essere intanto non deve essere non ce l'ha l'amico e ovviamente controllate che il glifo che vi danno sia valido sì vi prego perché a giugno c'è stata una scena penosa penosa proprio quindi controllate che il glifo che vi danno è valido e lo dovete legare all'arma ai tempi tanto tempo fa quando dovevamo legare qualcosa all'arma ci portavamo un bello spago la chiudevamo con lo spago al manico così non si rovinava o addirittura il cartellino che avevamo ci facevamo due giri di scotch quello bello spesso che lo plastificava così il problema di rovinare il cartellino non si uscitteva ma comunque se vi si rovina un cartellino noi lo rifacciamo l'importante è che ci sia il cartellino legato all'oggetto aggiungo un dettaglio la validità scusami perché ci chiedono in che senso controllare che sia valido che non sia scaduto la scadenza lo vede chiunque non c'è bisogno di nessuna abilità per capire la scadenza che non sia scaduto perché a giugno è capitato che sono venuti da me quindi proprio ignari di quello che stavano facendo e avevano un cartellino con un oggetto scaduto quindi controllate perché poi purtroppo la sanzione la becca chi ha l'oggetto in mano non mi interessa chi te l'ha dato no se tu ce l'hai in mano ed è scaduto sanziono te non posso commerciare oggetti scaduti mi stai chiedendo se puoi vendere a qualcuno il pacco cioè se gli vendi un oggetto che non è più valido sì credo che sia questa la domanda se è legale o illegale personalmente io rimuovo dal gioco tutti i cartellini scaduti nel momento in cui li vedo vengono strappati per me certo il cartellino scaduto non vale niente è un cartellino anche perché vi ricordiamo che adesso è attaccato ad un oggetto quindi se c'è in cartellina attaccato un oggetto e quell'oggetto e quel cartellino è scaduto e vendi il pugnale con l'assassinare col cartellino scaduto e il faggiano se lo compra però cioè se quello poi ti viene a pizzicare fino a casa tua e te scitofona c'ha ragione perché poi avvende un pezzo di carta straccia cioè quindi le basi i cartellini scaduti andrebbero strappati per evitare problematiche e aggiungo il dettaglio che anche le pozioni sono degli oggetti con dei cartellini attaccati questo perché ve lo dico perché anche su questo ultimamente abbiamo visto persone che vanno in giro con pacchetti così di pozioni in tasca è bruttissimo attaccato ad ogni cartellino ci dovrebbe essere la boccetta la boccetta con un lipido colorato di acqua colorante quindi ma non è obbligatorio berla per forza puoi anche fare così e buttarla a terra ma quanto sarebbe più bello se uno che ha le cinque boccette nella borsa fa rumore quando cammina allontano dalla regia di Casalinga mi dicono di allungare ok mi si sente bene Danilo qui mi stanno cazziando da casa meglio così meglio così meglio così grazie grazie amore l'amore non era Danilo ovviamente no meno male nonostante ci sia stato molto amore fra me e Andrea negli anni volevo rispondere a una domanda fatta prima protezione sacra non si chiama santuario si chiama protezione sacra dell'incantesimo naturalmente viene interrotto da exhaustion perché bisogna impugliare il sigillo con entrambe le mani sopra la testa quindi una non va bene quindi sarebbe bellissimo tornare ad avere in gioco più oggetti che fanno anche parte proprio del quello che può essere il commercio i furti tutto quello che avviene dettaglio sui furti ricordo a tutti una cosa è fondamentale e gli oggetti di gioco rimangono nelle aree di gioco certo gli oggetti fuori gioco non devono essere mischiati agli addetti in gioco o sotto il letto dentro la borsa c'è portafoglio e moneta d'oro no il portafoglio sta dentro la borsa sotto la brandina che è totalmente fuori gioco coperta non si vede così io quando alzo la brandina vedo che c'è un bel trolley fucsia e non lo tocco ma nello screen sul tavolo devo trovare devo trovare gli oggetti in gioco che rimangono in gioco altro dettaglio non è possibile chiudere col lucchetto oggetti di gioco il tuo il tuo trolley ci puoi mettere quanti lucchetti vuoi tanto nessuno deve toccare ma gli screen in gioco devono essere aperti apribili non devono essere non ci deve essere cose strane così a me evitiamo di rompere qualsiasi cosa giustissimo e questo dettaglio per accadimenti successi proprio a giugno vado avanti e arrivo finalmente alle ultime quattro pagine di questo guidamento se ci sono domande al momento per prendere combattente leggero non basta più il gambe sono assolutamente no si parla di armature in cuoio altamente estetiche esattamente grazie Danilo prego e allora le ultime pagine del ah Danilo ricordami che devo dire una cosa sul time out importantissimo va bene e in quattro pagine del regolamento abbiamo fatto un breve riepilogo delle regole di combattimento e delle chiamate ragazzi questo non vuol dire che il regolamento non lo dovete leggere ovviamente ma vi prego vi prego vi prego di leggere almeno queste quattro pagine addirittura di stamparvele e portarvele della sacchetta perché purtroppo a giugno abbiamo visto un forte forte abbassamento della conoscenza delle regole base del regolamento quindi scene un po' strane quindi uno fa esaustion a un altro e quello se gira e scappa e fa confuse oppure un altro gli fanno slip e casca a terra con una crisi epilettica ragazzi le chiamate non sono così tante e poi il nome vi ricorda anche quello che dovete fare però leggetele anche le regole di combattimento piccolo aneddoto di giugno che mi ha fatto incazzare e ridere allo stesso tempo stavamo in un assedio io stavo lì al solito a piare botte a un certo punto vedo un ragazzo che con con l'arma fa un tocchetto in testa all'altro e questo ooooh non vale fa il secondo ooooh mi stai meno in testa e a un certo punto mi sono fermato l'ha fatto buono ma in testa vale cioè eh da sempre ragazzi da sempre ragazzi idem mani e piedi e piedi ora i piedi io consiglio sempre a tutti soprattutto negli assedi del menacolo e picche sui piedi perché un colpo della picca è uguale alla alla pestata dell'amico a fianco a te che te sta a fianco quindi è difficile ma se tu te metti perché questo è l'esempio che è successo con l'arma così davanti alla testa e io te meno sulla mano e la mano è valida ci sono dei modi di porsi di mettersi in combattimento per evitare di fornire la mano all'avversario ma se te metti così e te meno sull'arma quello è un colpo valido valido quindi leggiamo queste quattro pagine perché ripeto a volte è stato veramente difficile difficile per noi arbitrare delle persone che non sanno minimamente cosa devono fare ed è anche brutto perché magari uno fa un'azione una scena fa un qualcosa e vede dall'altra parte il nulla cospico e il ciflogramma piatto gente che fa le cose più strane studiatevi anche come funzionano le armature e come si contano i punti armatura ragazzi esattamente è una cosa che sembra essere un'arte orientale per molti ma non è così complesso lo possiamo garantire l'abbiamo rimesso qui c'è nella guida evento c'è il dettaglio delle armature c'è il dettaglio degli elmi esattamente c'è tutto c'è tutto vi ricordo giusto per che ogni locazione quindi braccio superiore retro braccio superiore fronte sono due locazioni ed entrambe devono essere coperte al 75% per dare la protezione e il punto ok per esempio braccio superiore retro è veramente difficile io ci sono poche armature che hanno questa parte chiusa e sono la cotta di maglia il gambeson ma le piastre è difficile molto difficile come la connellina di piastre la connellina di maglia copre una parte della gamba ma non tutta la parte interna per avere la gamba coperta internamente dovete comprare i pantaloni di maglia quelli coprono la gamba interno ed esterno fronte retro tutta quindi anche su questo dateci una mano perché poi quando veniamo lì prima della battaglia e vi chiediamo quanti punti avete e a volte vengono sparati dei numeri tipo superiore in allotto non è molto divertente mi è rimasta ma abbiamo aperto il giveaway no a tal proposito regia ci siamo con il giveaway siamo pronti lo facciamo partire quale sarà la parola magica di questa sera per il giveaway regia cosa ci dici comunicaci qualcosa giveaway questo giveaway comunque stiamo parlando di un ingresso a ecco è giveaway punto esclamativo giveaway tutto maiuscolo probabilmente funziona anche con minuscolo però tutto maiuscolo che a noi ci piace urlarlo questo giveaway mi permette un ingresso ad age of guardians di giugno 2025 mentre fanno lo spam stanno andando a bombazza intanto ringrazio tutti i nuovi follower si grazie grazie ragazzi siamo abbiamo eh Danilo ragazzi ve lo dico quando arrivavo a mille follower io e Danilo facciamo un casino in chat si Danilo fa qualcosa di strano eh va bene bordelli 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 in chat va bene o facciamo tutta a mille follower facciamo una nottata di aneddoti madonna mia ragazzi io mi compro 50 Red Bull racconti racconti fino a mattina oltretutto ce ne mancano tanti però siamo cresciuti siamo cresciuti bene con tutto che non facciamo un un uso costante di questo potente mezzo comunque siamo cresciuti bene sì 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 perché comunque si è anche creata un po' una community dei assidui frequentatori di questo luogo e poi comunque sono giocatori di Battle for Villages eh e ci fa molto piacere insomma che in qualche modo si sia creato un uno standard Sabions subito che clicca bravo Sabions dai dai che stasera ecco un altro dai che stasera arriviamo a 7.50 quanto stiamo? 7.40 7.46 7.46 vero? sì sì credo siamo 7.47 7.48 uh addirittura stanno arrivando alle Sab grazie a Little Magique o Mage AK non lo sappiamo quale sia la vera pronuncia di questo nome ma grazie per la Sab su Prime giveaway ragazzi giveaway giveaway a quanti siamo arrivati? intanto la regia ti dice quanti giveaway avete scritto così almeno vi stuzzichiamo dai follower dai che arriviamo a 7.50 stasera ci arriviamo c'è il rischio guarda ma secondo me io vedo sempre 7.46 sì ma perché non si è aggiornato secondo me adesso la regia ci farà il regalo magico non si è aggiornato non si è aggiornato io qua provo a aggiornare mi dà un attimo se impallo tutto via sparca tutto Andrea tanto ormai abbiamo fatto 30 facciamo 31 qui mi sta mi sta andando arrivando cose strane 7.60 dai l'abbiamo oh grande grande bravi 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 mi piace bravi mi piace secondo me obiettivo entro il 2025 è arrivare a mille dai Andrea facciamo una live di Natale il Capodanno con Baldacci no il Capodanno ma a Natale lo faccio volentieri questo è il Capodanno di Babbo Natale assolutamente ecco si guarda guarda va a retroguardia ci siamo ci siamo ci siamo e oltretutto mentre scrivono facciamo un po' di chiacchiere prima di dare l'informazione finale e annunciare anche il vincitore 122 persone online quindi grazie grazie e bellissimo risultato anche stasera calcola che come dico sempre un sacco di persone di voi durante l'evento poi dicono Andrea ma quando ci facciamo una missione estera una missione estera io sono sempre un po' in dubbio oltretutto fine estate poi ritornano amici che fanno fiere mio fratello che fa fiere un po' tutto propa e quindi mi raccontano aneddoti che non mi fanno impazzire su altri eventi sapete che io sono un picchiatore quindi quando dico non mi fanno impazzire perché vuol dire che sono eventi molto molto peace and love molto molto proprio dove il combattimento è estremamente marginale però sarò curioso di andare vorrei andare a maggio 2025 sperando che non è in una data proprio sfortunatissima in Spagna perché da sempre gli spagnoli sono belli tosti si loro sono tosti uomini e donne esattamente c'era c'era una nostra amica che veniva sempre dalla Spagna ma qualche evento che non viene e mi hanno detto che loro lì fanno un bel gioco di battaglia bello tipo il nostro e quindi sono molto curioso quindi poi vi farò sapere per cui quello potrebbe essere un appuntamento dove poter fare un bel viaggio di vi leggis tutti insieme a facciare gli spagnoli o essere picchiati brutalmente gli spagnoli vorrei ringraziare anche Sibiato per la sua iscrizione a Prime e Jimmy Fender che ha il quarto mese di iscrizione a Prime grazie grazie abbiamo anche un hype train al 93% ragazzi tirate fuori qualche sub qualche qualche bit qualche gift eccolo qua Berenga che ci regala un super message e si ricorda di quando faceva le rocche a Capodanno con te c'ero pure io mi ricordo pure io che bello 15 anni fa abbiamo fatto due rocche a Castel di Tora eravamo cento centodieci persone con le sale tematiche con la musica diversa cioè molto molto divertente bello 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 mi piacerebbe tanto riorganizzare qualcosa qualcosa del genere ah oltretutto molti mi stanno chiedendo in fiera cose varie le date della rocca ragazzi ancora non le sappiamo domani mi sento con il sindaco però purtroppo anche lui lo sto un po' tartassando di messaggi ma ancora non abbiamo una data di fine lavori io spero fortemente visto che i lavori erano previsti per giugno che settembre ottobre novembre finiranno quindi entro l'anno spero di fare questa che faremo questa rocca se se dovesse essere una brutta notizia per la rocca sicuramente riattiveremo la possibilità dei vari campi di fare dei live interni dei live di casata come ce ne sono stati prima di giugno la fine sono stati fatti giusto? 3 Laoconte Bassaco e Nepturia e molto molto divertenti tutti e tre diversi molto diversi fra di loro un po' scelto un perché poi essendo live di casata un po' diciamo che ne parliamo insieme sul trend del live e hanno avuto tre trend diversi tre format un po' diversi belli tutti e tre una bellissima atmosfera quindi abbiamo vedo che non vedo più il giveaway quindi il giveaway è ancora lì ancora lì se qualcuno ritardatario quanti ne hanno fatti regia? quanti ne hanno regia oggi è poco ci risponde poco secondo me sta guardando una partita non lo so c'è sempre l'oscura presenza c'è sempre io la percepisco 72 ragazzi siete 111 ma cosa state facendo non lo volete regalato non lo volete ma non lo vogliono cioè regalo non ci pagate le tasse su questo ingresso allora visto che ho visto che hanno è calato il trend giveaway intanto l'unica l'ultima cosa importante che troverete scritto sulla guidamento ed è un cambio una prova di un cambio importante comunque abbiamo visto ormai da molto tempo che la domenica mattina gran parte dei giocatori ha un'estrema fretta di fare i bagagli e andare via estrema capiamo che è molto lontano che deve farsi comunque 7-8 ore di macchina quindi per alcuni è comprensibile per altri un po' meno però ognuno fa la propria scelta purtroppo però negli ultimi eventi era proprio brutto cercare di organizzare la caccia dei redi domenica mattina con i furgoni a vista la gente che smontava i campi che da 100 passavano a 30 brutto 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 non ci abbiamo provato fino al limite anche oltre i png giravano nei campi cercavano di portarli in gioco però a un certo punto ci arrendiamo anche sulle vostre scelte quindi abbiamo deciso di anticipare la caccia del re che sarà l'ultima battaglia del sabato noi chiuderemo il sabato con la caccia del re che vuol dire che la domenica mattina non si gioca no la domenica mattina tutto ciò che è fuori dai campi è in gioco la città fuori di plot tutto 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 l'unica cosa che diamo la possibilità alle spalle del gate non si devono vedere i furgoni a vista noi non devono andare nell'area di gioco ma diamo la possibilità dalla mattina di arrivare di smontare di arrivare dietro al campo dietro al campo e se ci sono necessità di caricare e partire così presto non c'è problema però così non ci avveleniamo noi e non veniamo a rompere le scatole a voi non potete spostare il furgone no lo potete fare ora in questo evento facciamo questa prova lasciamo che fuori dai gate rimane tutto in gioco dietro al campo l'area out game del campo potete procedere allo smontaggio o spostare le macchine senza lo ripeto senza mai entrare nell'area di gioco danni penso che è chiaro no penso che sia chiarissimo per tutti anche perché prendersi una sanzione l'ultimo giorno è proprio da una cosa stupida mettiamoci da stupidini sappiamo che Andrea voleva dire un'altra cosa ma io lo censuro e ricordiamo che comunque fino al time out si giocherà fuori dal dai campi e in cittadella senza alcun limite fino all'ultimo minuto tutto come sempre ma cercheremo di farlo senza noi incazzarci con chi sa prendere la macchina e senza cercare starvi addosso a voi che avete fretta quindi vi prego prego chiunque ha fretta di farlo con decenza se no regia abbiamo un risultato di questo giveaway chiudiamo no il risultato di giveaway vediamo chi ha vinto chi ha vinto di giveaway attenzione attenzione ruolo di tamburi giriamo 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 72 poppidori poppidori vincitore presenti fatti vedere fatti sentire fatti leggere più che altro fatti sentire è difficile fatti leggere sei poppidori speriamo che tu non sia uscita nel frattempo dalla live mi sta uscita dalla live però c'è nel senso partecipi a un poppidori scrivici facci sapere come sempre contatta la pagina battle for villages per per avere insomma il tuo codice la possibilità di avere l'ingresso a giugno dell'anno prossimo eccola poppidori o eccolo poppidori è rositai quindi ci immaginiamo un'eccola cristiano ovviamente dice oddio ma che si fa la domenica mattina cristiano tu puoi prendere tutti i tuoi uscire dal gate e attaccare e attaccare tutti quelli che vanno in città a fare quello che ti pare nulla fuori dal gate non è cambiato nulla potete anche decidere con un campo di menarvi la domenica mattina non c'è problema stiamo cercando soltanto di venire incontro a chi ha necessità di smontare velocemente visto che abbiamo notato che sono un gran numero di persone e quindi cerchiamo di venire incontro a tutte le esigenze anche quelle che in teoria non mi fanno perché a me mi piaceva giocare tutti tutto tutto full fino all'ultimo minuto del gioco però ahimè abbiamo visto che tante 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 persone la domenica mattina tendono a allo smontaggio più lento bene signori io penso che le domande che ci avete fatto abbiamo risposto fondamentalmente a tutte quelle che ci sono arrivate sia le più comode che le meno comode noi siamo ormai a 15 giorni effettivamente dall'inizio del prossimo Age of Guardians siamo arrivati quindi ragazzi che dire è stato un piacere come sempre avervi con noi vi ringraziamo che siete stati tanti presentissimi siamo arrivati grazie a Rosita che comunque si è iscritta pure su Prime grazie Rosita dopo aver vinto il miglietto brava dopo brava era meglio prima va bene va bene va bene era già follower era già follower perché se non sei follower non funziona ah scritta su Prime bravissima top proprio top grazie a Danilo sempre presente l'unico tomatone di leoni che riesce a un po' poco molto poco a trattenere quella belva che è Andy Baldacci ragazzi grazie mille noi ci trasferiamo in massa da Manfredi e gli andiamo a fare un bel saluto a Manfredi ragazzi grazie ancora ci vediamo in piana ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti